Le posso chiedere un suo pensiero sui nostri amministratori? Ne pensa bene oppure male? Amministratori di chi? Sì, amministratori locali. Di Benevento? No, è bene. Parlo bene. Sì, tutto a posto. Stanno amministrando bene secondo lei? Io sì, sono contenta. La città la vede buona? La vedo più ordinata, solo per i negri, per i marucchini che cercano solo soldi. E quindi è un guaio. Del resto tutto bene. Siamo contenti. Guardi, ha trovato proprio uno che è di politica, proprio... Non segue la politica locale? No, ma una volta. Adesso assolutamente... Non posso dire la parola, ma è una cattiva parola. Almeno come vede la città? Quella per adesso? Adesso sembra che chi ci sta a governarci voglia fare qualcosa di buono. Se lo lasciano fare, se lo lasciano fare, può darsi che qualcosa riusciamo a ottenere. Posso chiedere un suo pensiero sui nostri amministratori? Meglio che non ne parlo. Scusate, un vostro pensiero sui nostri amministratori? Ne pensate bene oppure male? C'è da dire pure. È una schifezza. Sono dei ladri. Che è quello, insomma. Amministratore locale, eh? Locale, no. Nel piccolo sono così. Nel grande non parliamo proprio. Nel grande è peggio. Eh, vabbè, ma è ovvio. Se uno maneggia 100, se si vinta 100, maneggia su 1000. Quindi il giudizio è negativo? Ma... Diciamo 50 e 50. Ma gli italiani, se sono intelligenti gli italiani, ci sono le elezioni. E che si regolassero in me, l'unica arma che abbiamo... E molti non vanno a votare proprio. E fanno male. Bisogna andare a votare a mascarabocchiare. Non dare a nessuno il voto. Non paremmo di non votare. In caso non si risolve. Rimanno sempre loro. O no? Dico bene. Vuoi non andare a votare? Ma dove? E se ci vai a far votare? E' sfiduciata, non ci chiede più. Come vede la scelta? Non c'è la ghiacca in questa comunità. Allora? Loro sei padronico. Beh, non ne parliamo proprio. Sta bene oppure male? Ma male, malissimo. Malissimo. Proprio niente. Da stazione hanno fatto quello che hanno fatto. A Piazza Pistolati hanno fatto quello che hanno fatto. Ci hanno tolto i parcheggi. Non lo so come si deve andare avanti. Le strade che sono proprio una groviera. Che cosa vogliamo fare più? Che cosa possiamo sperare? Sono le tasse. Questi gli amministratori nostri sono quello che fanno. Le tasse. E basta. Niente altro. Per me devono fare una cosa migliore. Per il momento stanno facendo male. Come vede la città in generale? La città la vede molto in degrado. Vedete? Tutta questa roba qui non viene mai pulita. Abbiamo un viale che potrebbe essere il gioiello della città. Ma però sta molto in degrado. Non si vede nessuno. Da quando hanno fatto questi lavori non si vede nessuno che viene a piantare. Hanno fatto dovevano mettere l'illuminare. Hanno messo queste cose qua per l'illuminare. Però siamo proprio in degrado in assoluto. Allora la nostra amministrazione è a zero. Sui nostri politici locali ne pensa bene oppure male? Bene, bene. Come vede la città? Pulita, bellissima, veramente. Sono rimasta meravigliata come sta bella pulita. La vedo sicuramente migliorabile. Sotto vari punti di vista? Sotto vari punti di vista, sì. Migliorabile, ci sono tante risorse che non vengono utilizzate. Ci sarebbe tantissimo da fare. Sembra un po' che vada sempre allo stesso modo le cose. Però dei miglioramenti io li vedo rispetto a 20 anni fa. E che ho ancora da 20 anni. Minimo anche. Se no, ecco, magari mi metto un po' di tristezza se vedo sempre le stesse facce così. Dei manifesti politici? Malissimo. Male? Come vede la città? Eh, non la vedo bene. Tutta l'Italia, non solo la città, tutta l'Italia. Andrà a votare lei il 25? Ma forse no. Forse no. E lei invece andrà a votare? E per chi vai a votare? Sono sempre le stesse facce, non c'è niente da fare. Non cambia niente. Il registro è sempre uguale. Pare che un po' di fiducia ce la sta dando Renzi. Speriamo. Un suo pensiero sui nostri amministratori locali. Ne pensa bene oppure male? Insomma a metà. Per quanto riguarda tutto quanto questo che succede. Come vede la città? Un 50%. Un 50%. Di pulizia? In generale. Questa è la mia opinione. Andrà a votare il 25? No. Amministratore di cose? Locale. Locale? No, veramente, non niente da... Per il momento a me sembra che funzioni va bene. Poi... La città come la vede la città? Abbastanza... Eh, ci stanno i problemi, ci stanno sempre qualche cosa, però si può andare avanti. Andrà a votare il 25? Vediamo, fino al 25 ci pensiamo ancora. Comunque è importante pure votare. Un pensiero, secondo lei, sui nostri amministratori? Sono andato con tutti quanti, a livello locale, nazionale. Tutto cosa, tutti. Uno perché c'è l'altro, se va per cavoli loro, non paura per la gente. Non mi interessa. Come vede la città? Sporca. Un suo pensiero sui nostri amministratori? Fanno schifo tutti quanti. A livello locale e nazionale? A nazionale e tutto cosa, perché non vanno niente per benevare. Andrà a votare lei il 25? No, no. E oramai, vedo, tutto sempre che la gente so. Sono sempre gente, diciamo, a Sicilia c'è un uoco da qua, e chi li capa, stanno tutti quanti qui lì là. Chi ha roba e non va mai in galera, e chi li capa, eh, va in galera.